Euro Regione News Salviamo l'aeroporto di Gorizia L'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia torna al centro dell'attenzione per la decisione dell'Enac di chiuderlo in via preventiva allo scopo di bonificarlo da eventuali presenze di ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. Tra le voci indignate che si levano quella del capogruppo della lista civica per Gorizia, Fabrizio Retti. Anche alla luce del fatto che in un cantiere a Malpensa sono stati trovati ben 52 ordigni di 250 kg ciascuno, ma nessuno si è sognato di interrompere le attività dello scalo. Sulla vicenda è intervenuta anche l'assessore regionale e le infrastrutture Maria Grazia Santoro auspicando la riapertura dell'aeroporto. Il paragone con Malpensa è forse però azzardato, ai nostri microfoni Fabrizio Retti. Il paragone è sicuramente difficile, però era un modo anche provocatorio per dimostrare che in un aeroporto, tra virgolette, importante, dove c'è un gran flusso di aerei, si ritrovano 52 bombe, si riesce a risolvere il discorso, si riesce a capire che sono inermi, si richiude e si va avanti. A Gorizia per una sorta di ipotetica ed eventuale ritrovamento si chiude tutto, si sbarra tutto fino a data da destinarci. E questa era un po' la provocazione, ma sicuramente l'amore di lavoro e l'importanza è sicuramente diversa. Però purtroppo testimoniava come in Italia purtroppo ci sono delle leggi che vengono fin troppo interpretate. Quello è un po' il segnale forte che voleva arrivare, quello è un po' il discorso.